Un salutone a Panda Felice, ciao! Counter Strike, non c'ho ancora mai giocato, quindi c'è, sto giocando le prime partite perché prima in realtà io l'ho comprato da un pezzo e poi non mi funzionava mai, adesso con Windows 10 ha iniziato a funzionare. Dovresto ammazzare a sto tipo? Che cavolo sto facendo? Ehm, niente, stavo dicendo che non aveva mai funzionato sto giocolo, invece adesso grazie forse a Windows 10, che cavolo sto combinando, adesso ha iniziato a andare e spara! Sono vergognoso, no ragazzi, dovete capire che è solo una cosa, riscaldamento. Devo ancora capire questa cosa degli armamenti, allora bisogna essere molto veloci a dire l'arma che vogliamo. E così moriamo in stecca 3.000 volte, dai dai, allora cerchiamo di combinare qualcosa in questo gioco, di ammazzare qualcuno. Ecco, cerchiamo di ammazzare qualcuno. Ehm, ho visto qualcuno, ma forse dei miei, sì e dei miei. E niente, questo Conte Strike, come vi dicevo, non funzionava mai, mi dava sempre errore. Ehm, adesso ha preso a andare e quindi giustamente, adesso ho detto, giochiamoci! Mi sta già iniziando a scherarare! Ehm, dopo so che ce l'hanno i Twins Gamer, ce l'hanno di diverse persone che conosco questo giochino, quindi magari giocherò, collaborerò con qualcuno, anche se sapete tutti che io sono nabbissimo in questi tipi di gioco, anche quante cavolo di morte sto facendo. Poi riesci a scendere senza farsi male. Boh, sembra di sì. Ah, ah, chi mi sta sparando? Aiuto! Dov'è? No, commento! Ah, devo fare lì! Eh, quasi da qui si scatta... Oh, ma qui non mi fanno prendere le armi che già... Nitra... Meg 10! Allora... No, quello lì! Ahahahah! 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 Ragazzi ho paura dei vostri commenti sotto questo video, se deciderò di tenerlo! Ahahahah! Sì, io sparo i miei colleghi lì! La mia lobby! Meno male che non c'è il fuoco amico adesso qua! Mori! 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 De un nabo! Eeeeee! 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 E' schifo! Fai schifo svideo! Fai schifo! E' veramente schifo! E' schifo! Nabo schifoso! Ma vabbè, dai, dopo magari mi riesco a impratichire... Sì, dicevo così anche con i vari color duty eh però... Anzi, color duty! Perché... Deve sapere che... Io... Dicevo... Vabbè... Mi hanno cazziato anche su questa cosa giustamente perché dicevo quello duty e non duty! Eh, lo so... Ma hanno ragione eh! Hanno veramente ragione! Comunque adesso qua stiamo giocando al Counter Strike quindi no... Non parliamo di altri giochi! Qua si apre no! Oh! Chi mi spara? E' quello! Ricarica R? Oh no! Uffi! Guardiamo qui! Guardiamo anche la mappa! Muori! Muori! Vabbè, l'ha ammazzato lui eh! Seguiamo questo tipo! Guarda, seguo te! Dai! Andiamo insieme! C'è il tit... Eh, vabbè! No, no, vado per i cavoli miei! No! Cacchè per baran! Vincere! Eh, vipi! Vai lo so! Che che nome c'è? Eh vai! Dove c'è il go? questo è quel punto esclamativo ma ma scusa non era dei miei quello non ci ho capito niente è terribile sta partita che sto facendo voglio un drink scendiamo muori oh perchè un disastro un disastro sono un disastro dunque ok ok cosa vuol dire sta freccia ma 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 no 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 com'è l'arma bonus una pistoletta aiuto 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 muori no heisenberg ok ha visto telefilm la breaking bat muori oh te sei morto bravo bravo muori muori bravo anche te ribelle un achievement un achievement muori che te no incociva refore train apri no la base di acquisto termina muori muori no che è stato civori simpatico muori dovrei cambiare il mio stile di gioco allora mi tra p90 cambiamo Cambiamo Il muro di Bello perché vario Ma no Che brutto cos'era Chi è? Dov'è? No, no Ah è sempre che ancora, no E va bene ma non vale, sarà drogato Vabbè che le telefilm spazzavano Più che Send old Mi Mitra Eh, forse qui sto terminato Vai a cagare Mari No, c'era quell'altro Send old, ancora Va a capare i rat Eh sì, vabbè Buonanotte Buonanotte Comunque sì È la Seconda partita È praticamente la seconda partita Sono riuscito a fare tre minuti a pranzo Oggi Quindi potete capire che devo ancora farci la mano I piedi e tutto Questa musichetta qua cosa vuol dire? Che sta finendo già Io ti odio Nooo, finito Civorri Primo posto Allora Civorri Ho fatto 87 Ah ma non sono quello che ha fatto peggio C'è anche qualcuno che ha fatto peggio di me Quattordici Quattro Trentadue Ma come si se ne fa Quattordici Quattro Vabbè Vabbè ragazzi Cioè Vabbè niente Questa qua è la prima partita Tanto da provare Ciao A questo video